Nella giornata in cui Cattolica si laurea campione di inverno, il Torconca sbanca la vicina Coriano e insidia proprio i cugini, battuti due volte su due in quest'annata, con i derby, procinto, subito dopo l'epifania. Il Torconca emette un colpo, anzi due, sul difficile campo di un antagonista per la vittoria finale. Lo fa alzando la voce, scavalcando, grazie a una vittoria all'inglese, proprio il Coriano e Pietracuta, altra sorpresa di questo torneo. Eppure l'inizio è di marca corianese, qui Vukai porta spasso mezza difesa ma tra lui e gol c'è di mezzo il legno alto della porta, concursione d'applausi che meriterebbe miglior sorte. Da calcio piazzato, padroni di casa che cercano di pungere la punizione di Angelelli, sibila il palo alla destra di Melchiorri. Dopo due lampi, il Torconca gioca a palla a terra, grandi sese di Cristofan che poi una volta cercato l'appoggio in area di rigore, lascia che il pallone termini lentamente tra i piedi fedeli che di prima intenzione inventa il destra giro alle spalle di Leardini. Una a zero è festa grande per la formazione ospite che dimostra di soffrire, attendere e di colpire al momento giusto, tra l'altro nel momento migliore dell'avversario. Le grandi squadre si vedono anche in quest'occasione. Torconca che scrive il raddoppio, punizione di Casoli, colpo di testa di fedeli e Leardini riattivano in distendersi alla propria sinistra a sventare il pericolo in corner. Ma il raddoppio è nell'aria, Cristofan lanciato a rete e al tempo di sistemarsi il pallone da posizione di filata lascia partire un sinistro chirurgico bello a vedersi e angolato. Nulla può Leardini, una a due, micidiale, detto Torconca. Dalla parte opposta, Bucai ruba palle in aria, bene toccato, forse no da Gasperini. Recrimini comunque locali per un rigore non concesso. Ancora Bucai protagonista, lanciato da pari, da posizione di filata, mette a lato. Il Torconca si rende nuovamente vivo con un tio dalla distanza di Renzoni, dei viati in corner, dall'ottimo Leardini. Nella ripresa entra Vitaioli che da calcio piazzato trova la murale ospita a rispingere la sua conclusione. Vitaioli porta maggior verve, entra anche Montebelli ma qui ostacoli in fase di conclusione i compagno pari, pallone alto. Ancora Vitaioli sulla sinistra, attraversione insidiosa al centro per la corrente Angelelli, ma c'è il salvataggio providenziale davanti a linea di porta da parte della difesa del Torconca. Dopo cinque minuti di recupero la partita si spegne con il colpo di testa di Franca tra i guantoni di Melchiorri. Due perle per i Torconca che valgono secondo posto in classifica e una tale serena in vista di un derby molto accattivante. Occhio a non cadere in strane tentazioni, o forse sì se si pensa al primato.